gentissimi ben trovati a un nuovo appuntamento col notiziario finanziario quella andata in scena oggi sui mercati continentali è stata una giornata in parte positiva ma anche interlocutoria gli investitori digeriscono il dato sull'inflazione negli stati uniti che si è rivelata superiore a quanto preventivato ora ai massimi dal 1990 parallelamente la commissione europea rileva il dato sul pil italiano in crescita del 6 per cento circa nel 2021 con un ulteriore incremento nel 2022 tale crescita si manifesta più rapida del previsto anche negli altri paesi europei pertanto anche oggi gli stini europei crescono seppur sensibilmente piazza affari per esempio sale in una giornata trascorsa praticamente sempre a cavallo della linea dello zero con variazioni modeste ancora più neutra la percentuale del dax che chiude con un 0 e 10 anche in questo caso rimanendo prossimo alla parità wall street invece protagonista due faccia e da una parte il dow jones sta perdendo qualche decimo di punto percentuale dall'altra il nasdaq si rilancia dopo il tonfo di ieri la vetta del fuzzimib è occupata da cnh industrial che tocca un nuovo record di massimo dopo l'approvazione del prospetto per la quotazione di iveco group di lì a poco nexi favorita da risultati di bilancio dei primi nove mesi entrambi i titoli risalgono di oltre quattro punti percentuali in recupero dalla pessima seduta di ieri stm e moncler che oggi si posizionano a poca distanza dal più due banca generali si mette in evidenza tra i bancari a quota più 1 e 30 per cento le trimestrali fanno crollare interpump con un tonfo che sfiora il meno 8 per cento il titolo viene affossato anche dai giudizi negativi di equità per lo stesso motivo poste italiane lascia sul parterre un punto e mezzo vendite su era meno 1 e 30 per cento nonostante la società si sia giudicata la gara per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale del modenese amplifon e tenaris cedono ancora terreno per la seconda seduta consecutiva oggi superano il meno 1 poco movimentati anche i cambi che coinvolgono l'euro che continua la sua fase di debolezza sul dollaro americano rimanendo sempre sotto 1 e 15 ancora più timidi cali ad altri cross quali euro sterlina ed euro yen vicinissimi ai valori della scorsa mezzanotte e ora chiudiamo passando la parola al trader giacomo moglie per la sua panoramica su euro dollaro fuzzi mibe e indici internazionali salve a tutti giacomo moglie analista tecnico sarà l'ospite di oggi per le interviste di trader link e con lui daremo uno sguardo a quello che sta succedendo sull'euro dollaro lascio a te la parola e i grafici ben trovata rossana riaccese le preoccupazioni sull'inflazione americana il mercato azionario ha liquidato i recenti rialzi e quello valutario si è portato avanti sugli acquisti di dollari americani la cui forza spinge la moneta unica sotto 1 e 15 sui livelli visti da ultimo nel luglio del 2020 qui siamo in ricognizione del grafico espresso con candele settimanali del cambio euro dollaro lasciando spazio a questo punto anche ad un ulteriore possibile depreciamento della moneta unica ovvero letto diciamo in maniera speculare di rafforzamento del biglietto verde finita la festa sui listini questa è la domanda dopo che ci si potrebbe a questo punto porre visto l'accompagnamento diciamo di questa diciamo recrudescenza e un'aspettativa di inflazione con una debolezza dell'azionario non abbiamo in realtà elementi per ipotizzarlo anzi mancano gli elementi al momento per revisionare radicalmente il quadro azionario anche se è possibile che alla monodirezionalità subentrino strutture più articolate di qui in avanti passando alla ricognizione operativa sugli indici bene iniziando dal domestico Fuzzimib possiamo intravedere che invariata la premessa cioè non in via di smantellamento l'ipotesi rialzista strategica quello che sia adesso è oggetto di considerazione il quadro di breve nella scorsa settimana infatti abbiamo parlato ricorderete di un profit o comunque di un money management sul viatico rialzista dunque l'attenzione quadro generale del quadro di breve sul Fuzzimib ci dà la possibilità di individuare i parametri con cui monitorare questa dinamica rispetto a un segnale di breve rialzista elaborato secondo i nostri modelli da 26.680 il 25 ottobre quello che sia adesso è andato avvicinandosi il presidio protettivo che dall'iniziale 26.380 si è portato ieri l'altro a 27.400 l'ambito ma non intercettato ieri dalla debolezza vista ieri sotto 27.400 invece prima notazione di possibile debolezza sull'indice domestico sul fronte europeo portandosi sugli indici europei il DAX vive proprio in questo frangente una situazione particolarmente fluida qui la condizione tecnica tra i 16.000 e i 16.100 secondo i nostri modelli assegna una polivalenza direzionale dunque si gioca la partita una chiusura di oggi sopra i 16.090 fa proseguire in longa di breve con uno stop comunque a 15.980 e dall'altra parte dell'oceano dunque Wall Street dopo 5 settimane consecutive di rialzi possibile una prima ottava di arretramento e qui andiamo a verificare il quadro di breve posto che sia in parte tattica la parte strategica ancora positiva sull'S&P 500 e Nasdaq Composite indicazioni di debolezza in corso dall'8 novembre non definitivamente sul Dow Jones a questo punto dunque per accreditare l'ipotesi positiva di breve dovremmo rivedere una nuova configurazione posto che 4.7 sull'S&P 500 di resistenza 16.970 per il Nasdaq Composite Rossana. Perfetto Giacomo ti ringrazio per l'ampia analisi con te rimando l'appuntamento alla prossima volta A voi Grazie Giacomo e Rossana prima di concludere vi ricordo che per rimanere sempre informati e consultare tutti i contenuti potete iscrivervi al canale YouTube di Trader Link oppure Trader Link Web e sulla nostra app arrivederci